Primo giorno di dieta plank, benvenuti in questa nuova avventura. Ecco, io in questi brevi video che vi farò descriverò tutto ciò che potete mangiare e piano piano vi mostrerò anche qualche metodo per rendere più appetibili i cibi che utilizziamo. Iniziamo dal caffè. Il primo giorno per colazione abbiamo il caffè amaro. Ovviamente meno caffè si assume e tanto meglio. Quindi noi che siamo italiani e abbiamo l'usanza di bere caffè corto, chiamiamolo così, potremmo almeno per questo periodo utilizzare i classici beveroni americani e quindi utilizzare questi e farceli durare tutta la giornata. Per pranzo abbiamo spinaci a volontà. Ovviamente non ci devono essere condimenti, al massimo potete utilizzare del limone e ovviamente nell'utilizzo del limone sugli spinaci è bene che gli spinaci siano stati raffreddati. Due uova. Quindi in questo caso o potete fare una frittata di spinaci, ovviamente al forno e senza olio e senza formaggi, oppure se gradite potete sostituire con 80 grammi per uovo, quindi 160 grammi, di tonno. È un'ottima alternativa anche perché mangiare tante uova effettivamente non fa bene. Per cena prosciutto cotto a volontà. Solo prosciutto cotto. Iniziamo così e vi auguro una buona giornata e un buon inizio di dieta.